Bentornati con le consete e previsioni a cura di Meteo One. Una veloce perturbazione atlantica è giunta nella giornata di ieri sull'Italia, apportando temporali e rovesci sparsi sulle regioni centro-settentrionali. Sul sud della nostra penisola invece stiamo assistendo a un richiamo caldo di origine africana, accompagnato da venti meridionali e solamente qualche rovescio temporalesco relegato sui rilievi appenninici. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 6 giugno. In mattinata passaggio di nubi alte stratificate sulla Basilicata e la Puglia centro-meridonale, più sprazzi di sereno sul Foggiano e il Gagano. Nel pomeriggio aumento di nubi sui rilievi lucani e sull'alta morgia barese, con bassa probabilità di rovesci temporaleschi, più probabili solamente sull'appellino lucano. Alla sera cieli nuvolosi o poco nuvolosi. Per quanto riguarda le temperature saranno in rialzo nei valori massimi di un paio di gradi, con punte massimi di 30 gradi sul Foggiano. Attenzione in aumento soprattutto i valori di umidità, con crescente sensazioni di afa su coste e pianure. Venti dei quadranti meridionali sull'arco ionico e canal d'Otranto, occidentali sul Tirreno. Mari da poco mossi a mossi lo Ionio e il canal d'Otranto. E per la nostra consigliata foto del giorno ringraziamo il nostro telespettatore Scacco Matto, uno dei nostri fotografi di fiducia, per questo scorcio di estate salentina. La località che vedete letteralmente assaltata dai numerosi bagnanti è Santa Maria al Bagno, a Marina di Nardò, nell'Eccese. Se volete inviarci la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.